un secondo posto fantastico in sella ad elsa su un commento su questo meraviglioso campionato sono felice sono entusiasta ci tenevo moltissimo a fare bene a fare un buon campionato il podio poi rappresenta la ciliegina sulla torta e quindi sono sono felice sono felice perché dietro a un risultato c'è sempre un grande team che si prodiga per me e per la mia scuderia nel senso proprio dei cavalli perché questi risultati ci possano essere quindi poi sta a me battermi per questo e poi ho un cavallo straordinario che abbiamo sicuramente una profonda conoscenza reciproca e si batte per me in ogni modo ci conosciamo bene quindi è stata una bella emozione un bello sport è un bel test oggi sono stati due percorsi per niente sottodimensionati diciamo quindi è stato un vero campionato con due percorsi tosti quindi è una fotografia molto precisa della situazione per piazza di siena diciamo quindi è un test evidentemente superato e questo mi mette fiducia per per piazza di siena al di là del pass come dire automatico per la gara che chiaramente anche quello fa fa piacere e quindi sono contenta di aver sentito così elzas così in forma così guerriero come come sa essere e sono tutte sensazioni che mi porterò dritto e dritto a piazza di siena ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti